liberi.tv riccardo cristiano perché questo natale non decidi di donare un sorriso lo puoi fare acquistando e donando le palline dell'unità alzi queste vengono distribuite e vendute al costo di 5 euro e all'interno puoi trovare delle buon cioccolato il cioccolato non piace soltanto ai bambini il cioccolato piace a tutti anche agli adulti ovviamente le puoi utilizzare per decorare l'albero di natale ecco io ho scelto il rosso perché il rosso è un colore che mi piace molto e ti consiglio di farlo perché alle volte si donano regali molto costosi quando in realtà l'importante è davvero il pensiero tu con questo piccolo pensiero puoi donare il sorriso il sorriso a persone che tutto l'anno si danno da fare per fare cose veramente buone quindi che sia un natale soprattutto del sorriso un natale da donare al prossimo i libri tv riccardo cristiano vi augurano buon natale e buone feste vi augurano buon natale vi auguri Grazie a tutti